Le operazioni preliminari dal caratteristico porto turistico che ne fa uno dei luoghi più apprezzati appunto di questa località che ormai da qualche anno a questa parte si è legata in modo particolare al mondo del ciclismo. 146 sono i corridori al via in rappresentanza di 19 formazioni, dicevamo prova d'apertura mentre vediamo i ragazzi dell'Androni Giocattoli alla firma del foglio di partenza, tra l'altro formazione nella quale milita Francesco Gavazzi, nella quale milita Matteo Maluccelli i corridori che hanno già avuto modo di mettersi in evidenza sia in questa gara sia in modo particolare in questo inizio di stagione.